L'assessore regionale alle politiche giovanili, Serena Angioli, mantiene l'impegno assunto nelle scorse settimane. Mercoledì prossimo sarà a Vallo della Lucania per la sottoscrizione della convenzione con i 15 comuni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che hanno avuto accesso ai fondi del bando regionale Benessere Giovani. Con lei ci sarà anche l'assessore regionale all'innovazione, Valeria Fascone. Un vero e proprio incontro al vertice che si inserisce nell'azione politica e amministrativa avviata da Parco e Regione per promuovere e programmare le politiche giovanili sul territorio dell'area protetta. La conferenza di mercoledì infatti diventerà l'occasione per fare il punto sui programmi avviati e quelli in cantiere per le nuove generazioni e per chi ha deciso di sviluppare una propria idea imprenditoriale in uno dei comuni più a sud di Salerno. L'incontro si terrà a partire dalle 16 presso la sala conferenza del Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità di Vallo della Lucania. A prendere la parola saranno anche i forum dei giovani della provincia di Salerno e le associazioni del territorio che porteranno l'esperienza delle comunità locali nelle quali operano attivamente per dare vita così ad un dibattito istituzionale proficuo per il futuro dei giovani. A margine dell'incontro saranno sottoscritte le convenzioni tra regione e comuni beneficiari dei fondi del progetto Benessere Giovani che sono Cuccaro Vetere, Casalvelino, Montalantiglia, Alfano, Vallo della Lucania, Ceraso, Stella Cilento, Centola, Sassano, Castellabate, Ascea, Polli, Casala Consilina, Pisciotta e Pertosa. Subito dopo la firma di mercoledì i progetti potranno partire, prevedono l'attivazione di laboratori e corsi di formazione anche retribuiti che consentiranno a giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni di acquisire le competenze necessarie per l'avvio di determinate imprese.